Good morning a tutti voi e buona giornata, buona settimana. Siamo al capitolo 9, dopo la trasfigurazione succede questo. Arrivando presso i discepoli, videro attorno a loro molta folla, alcuni scribi che discutevano tra di loro. Subito tutta la folla, al vederlo, fu presa da meraviglia e corse a salutarlo. Ed egli interrogò, di che cosa discutete con loro? E dalla folla uno gli rispose, maestro, ho portato da te mio figlio, che ha uno spirito muto, dovunque lo afferri lo getta a terra e degli schiuma, di grigna i denti e degli si irrigidisce. Ho detto ai tuoi discepoli di scacciarlo, ma non ci sono riusciti. Egli allora disse, generazione incredula, fino a quando sarò con voi? Fino a quando dovrò sopportare? Portatelo da me. E glielo portarono. Fermiamoci un attimino, pensando che lontano da Gesù, lontano dalla parola, siamo tutti muti. Cioè non riusciamo ad esprimerci. E non basta che ci sia qualcuno del mestiere, i preti che ne sono, che faccia delle cose. Non basta. Non basta il ruolo per risolvere la questione. Ci vuole il cuore, ci vuole Dio, ci vuole l'abbà. Alla vista di Gesù subito lo spirito scosse con convulsioni il ragazzo ed egli caduto a terra si rotolava. Da quanto tempo chiese Gesù gli accade questo? E il papà rispose dall'infanzia, anzi spesso lo ha buttato nel fuoco, nell'acqua per ucciderlo. Ma se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci. Gesù gli disse se tu puoi. Tutto è possibile per chi crede. Tutto è possibile per chi crede. Se tu puoi qualcosa, Gesù non risponde dicendo posso, non posso. Ma dice il miracolo della fede. Perché la fede genera miracoli. La fiducia è generatrice. Lo abbiamo visto nel Vangelo di ieri, no? Quanto amate i vostri nemici. Se tu ti metti nell'ottica della gratuità, beh, cambia il mondo. Se non vi amate, dicevo ieri alla messa, vi distruggerete. Che non sono io che lo dico. Davide Maria Turoldo. La fiducia fa miracoli. E molto significativa è questa risposta di Gesù. Se tu puoi. Boh, è tutto è possibile per chi crede. E il padre del fanciullo rispose subito ad alta voce una risposta magnifica. Credo, aiuta la mia incredulità. Credo, ma aiuta la mia incredulità. Siamo tutti, spero, in questo passaggio, no? Nel dire il nostro credo, ma anche la nostra incredulità. Allora Gesù, vedendo accorrere la folla, minacciò lo spirito, dicendogli, spirito muto e sordo, io ti ordino, esci da lui e non rientrare più. Gridando, scuotendolo fortemente, uscì. Il fanciullo diventò come morto, sicché, dicevano, è morto. Ma Gesù lo prese per mano, lo fece alzare e degli stetti in piedi. E' la fede di quel padre che ha generato un miracolo. Gesù poi si avvicina nel suo stile. Lo prende per mano, lo alza e gli dice Viva, sei risorto per la fede di qualcun altro, per la fede di tuo padre. Dio non fa miracoli, lo ripeto spesso. La fede sì, la fiducia sì. La fiducia è qualcosa che cambia la vita nostra e delle persone che stanno accanto a noi. Le cose belle della giornata di ieri? Beh, cito soprattutto, c'è stato il carnevale e allora abbiamo fatto una cena molto bella, tranquilla, di carnevale ma in cui c'erano i bambini, c'erano i genitori e gli animatori. E questa è una cosa bella, no? Cioè le generazioni che si incontrano mica per una catechesi, per la messa, per carità. Però stare insieme aiuta sempre tanto e quindi sono molto grato per questa cosa qua. Allora, buona giornata a tutti voi.